ok perciò normale mf foto via elisabeth johnson ok io sbaglio i sensi delle porte stasera non so perché ok ricompense esaurite ma dove devo proprio cliccare sulla modalità level 1 non lo so ricompense esaurite si spinge non si è vero mi sa che si è buggato sai che si è buggato twitch l'hanno riscattata fino a poco fa sia la nightmare che la level 1 tanto ne abbiamo fatte due di level 1 una normale e una in nightmare quindi non c'è neanche il limiter la torcia della chicco rumore qua mhm hai l'mf si qui questa stanza qua porta temperatura di congelamento e no impronte perché mi ha dato interazione eeeh e questo qui sta toccando tantissimo e mf5 ombra onio gemelli guarda che roba altra interazione fantastico andiamo a prendere il resto dai si sta facendo rushare sto fantasma buono mhm level 1 challenge praticamente ci portiamo non ci portiamo oggetti giochiamo solo con quelli iniziali fenix grazie coi due mesi grazie grazie allora eeeh potrebbe essere il libro per l'ombra però fa un pochino troppe cose per essere un'ombra secondo me il dot per l'oni sfera di luce no spirit quindi prendo la spirit eeeh tu hai la videocamera giusto? si porto un altro dot dove sei? quanti anni hai? dove sei? quanti anni hai? dove sei? quanti anni hai? sei amichevole? dove sei? quanti anni hai? fai più niente adesso eh marrano vile fantasma cosa che ha toccato? dot ony boom candela avevo buttato la fotocamera sul letto mannaggia io la scarta ho buttato sul letto porca hai rotto le beh questo mamma signor dry che rischio con la porta chiusa mi hai fatto tutto tu mi non ho cliccato neanche io ho detto la sta tenendo chiusa aspetta che passo io ma vibra la porta hai visto? io la vedo ferma ah no io la vedo bella vibrante mortacci sua oggi è il momento di uscire ony ony si va fuori dai dry sistema la dice cichina è infoiata elisabeth pochettino è un fantasma con la candela ma eh calmanti mangiamo vado con le candele elisabeth soffia sulle candeline i gemelli non possono attaccare insieme mario attacca solo uno dei due ma hanno possibilità di attaccare entrambi l'uno o l'altro te le metto una sul letto e una sul comodino qua così fai anche la romantica se vuoi sei magnata la macchina fotografica fantasma ha spento tutte e due le candele ottimo direi possiamo andare bene che partitone stasera eh ma velocissimi tra l'altro comunque sta ancora vibrando la porta eh non farei approfondimenti strani messo ogni? messo si no no mario era forse una mia erronea interpretazione però non non li ho mai visti attaccare insieme eccolo là grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.